Nel sedicesimo turno del girone F di Serie D, il Nuova Florida cerca uno scatto di orgoglio, serve necessariamente una vittoria per scacciare gli spettri di una zona in cui i biancorossi non sono abituati da tempo a stazionare. Prima del fischio di avvio c'è però il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Sinisa Mijailovic. Ed è soltanto dopo che l'arbitro dà il via alle ostilità, Tamburlani al terzo raccoglie la corta respinta della barriera e ci prova col mancino, ma ne esce un tiro facile per del giudice che non ha problemi a bloccare. Primo tempo in cui succede davvero poco, ma nel quale a fare qualcosa in più è comunque il Nuova Florida che appare nitidamente spuntato in fase offensiva e che allora cerca di scoccare le proprie frecce direttamente dagli esterni. Ci prova un paio di volte Muzzi, prima con questo destro alto e poi cambiando fascia di competenza con questo cross che si trasforma in un tiro insidioso di cui del giudice spegne le velleità. Si passa allora direttamente alla ripresa anche se il tema non cambia, al quarto d'ora deve pensarci Valentini a scuotere il match impegnando del giudice con questo destro teso da distanza siderale, ma che viene deviato in angolo dal pronto intervento dell'estremo difensore ospite. La vastese si affaccia praticamente una sola volta con incisività dalle parti di Giordani in tutta la partita e lo fa con questa girata di Ricciardo sulla quale però Giordani non si fa sorprendere. Quando la partita sembra procedere senza soluzione di continuità sui binari dell'equilibrio, Sebastiani raccoglie questo pallone al limite e sfoga di rabbia un destro potentissimo che, seppur centrale, del giudice non riesce ad intercettare vedendolo sbucare all'ultimo. Vantaggio Nuova Florida a 5 più recupero dal termine con l'esultanza del 99 che sa di liberazione. Esattamente come quella che avviene al triplice fischio pochi minuti più tardi sulla panchina di Alessandro Boccolini che finalmente può festeggiare la prima vittoria nella sua esperienza in bianco-rosso dopo un mese travagliato. Nuova Florida che quindi ritrova i tre punti e allontana gli spettri di una crisi di risultati prolungata che la stavano riassorbendo nelle zone pericolanti della classifica.